e benvenuti in questo nuovo video nel video di oggi faremo un semplicissimo tiramisù vi faccio vedere di cosa avrete bisogno per la base 4 uova 60 grammi di eritritolo 200 grammi di farina di mandorle io prendo questa comprata al negozio unes e poi la trito in polvere sono mandorle bianche pelate e hanno 4 grammi di carboidrati per 100 grammi avrete bisogno di 60 ml di acqua fredda potete metterla nel freezer fredda proprio da frigo altrimenti potete metterci anche un po di ghiaccio avrete bisogno di mezza bustina di lievito in polvere per dolci tante volte mi scrivete nei commenti che il lievito contiene carboidrati però parliamo di 5 grammi di carboidrati se siete allergici allergici scusate potete utilizzare il bicarbonato di sodio ma altrimenti 5 grammi di carboidrati non siate così severe con voi stesse severi con voi stessi cioè non ingrassate con 5 grammi di carboidrati quindi mi raccomando iniziamo ad amalgamare tutti i nostri ingredienti partendo dalle uova eritritolo farina e lievito l'eritritolo potete anche aumentare la quantità di esso in modo da renderlo un pochino più dolce però non c'è bisogno perché poi lo stesso eritritolo potrete metterlo dentro alla farcitura del nostro tiramisù mi raccomando l'acqua deve essere molto molto fredda potete utilizzare quella da frigo potete mettere un po di ghiaccio per farla raffreddare oppure tenere l'acqua mezz'oretta dentro al vostro al vostro freezer in modo da renderla bella fredda la teglia ricordatevi una teglia chiusa sotto perché se no se usate una tortiera apribile vi uscirà tutto il vostro composto questo composto questo pan di spagna oltre ad essere utilizzato per il nostro tiramisù può essere utilizzato per fare tantissime farciture e tantissime torte oppure semplicemente anche consumato così semplice con me con un po di marmellata ovviamente senza zucchero o quella concessa nelle diete chetogeniche e low carb a questo punto andrò a sciogliere un po di caffè solubile un cucchiaino di caffè solubile dentro a un cucchiaino di acqua calda se vedete che il caffè non si scioglie aggiungete ancora un po di più di acqua calda aggiungerò 150 g di mascarpone e lo insieme al mio caffè questo è il pan di spagna cotto 180 gradi 20 minuti ricordatevi di non aprire il forno potete spegnere 5 minuti prima e lasciarlo dentro al forno raffreddare così non rischia di abbassarsi e di sgonfiarsi lasciatelo tranquillamente dentro al forno che non raggiunge la raffreddatura ora andiamo a preparare la farcitura nel frattempo che il nostro pan di spagna si raffredda mascarpone con il nostro caffè solubile e andrò a montare 150 grammi di panna fresca 150 ml di panna fresca la andrò a montare a neve potete aggiungere sempre un po di eritritolo o dolcificante tic potete aggiungerlo dentro al mascarpone in modo da rendere il vostro tiramisù ancora più dolce ricordatevi che poi in cima andremo a mettere il cacao amaro quindi se aggiungete un po più di dolcificante o eritritolo rende proprio il vostro impasto morbido e dolce come un classico tiramisù dopo aver aperto il nostro pan di spagna quando ovviamente si sarà raffreddato lo bagnerò con un po di caffè caffè semplice moca a freddo se non volete utilizzare il caffè potete utilizzare un latte vegetale di mandorla o di cocco il caffè l'ho dolcificato in modo da non avere un sapore amaro dentro al mio pan di spagna ora completiamo la nostra parcitura calma calma Grazie a tutti.